L'emergenza sanitaria, l'emergenza sanitaria sempre in primo piano, purtroppo è in continua crescita il numero dei contagi. C'è una nuova ordinanza sindacale, lockdown ad Arrazzano. Ci dice tutto Claudio Pappaianni. È una situazione che non può non preoccuparsi, non può non spingerci a rispettare tutte le regole per prevenire un lockdown. Però dipenderà molto da quello che sarà il comportamento di tutta la comunità nazionale. Da Capri il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lancia il suo monito nel giorno del record di positivi in Italia e in Campania. In tutta la regione si sono registrati 818 nuovi contagi da Covid-19, 183 in più del giorno precedente. Due i decessi e 151 le persone guarite, il doppio rispetto all'ultimo dato disponibile. Accanto all'aumento di contagi va segnalato un significativo incremento del numero di tamponi processati. Sono stati 11.323, cioè oltre 3.600 in più in un giorno. Il contagio cresce nella città di Napoli ad una velocità superiore rispetto a quella regionale, secondo un report elaborato dal comune. Uno studio frutto del lavoro della nostra task force, visto che dall'unità di crisi regionale non ci arrivano dati puntuali, ha dichiarato il sindaco De Magistris. Pronta la replica della struttura di Palazzo Santa Lucia. Il comune di Napoli e personalmente il sindaco ricevono un dettagliato bollettino quotidiano dall'asile di competenza. Archiviato il nuovo botta e risposta tra comune e regione, arriva una nuova ordinanza del presidente De Luca, la numero 78, che concede un'ora in più la sera alle pizzerie, ora potranno chiudere alle 24 quelle con servizi al tavolo, e limita gli orari della corsa mattutina. Nei luoghi non isolati, parchi pubblici, lungomari, centri storici, sarà consentito correre solo dalle 6 alle 8.30. Intanto sarà mini-lockdown ad Arzano, alle porte di Napoli, fino al prossimo 23 ottobre. Lo hanno deciso i commissari straordinari che amministrano la città dopo l'impennata di contagi degli ultimi giorni. Chiuse le scuole e i negozi, ad eccezione di quelli di genere di prima necessità, chiuso il cimitero, sospese anche tutte le manifestazioni e gli eventi pubblici, il mercato settimanale e tutte le attività sportive. Il prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha disposto un impiego straordinario di forze dell'ordine per assicolare il rispetto dell'ordinanza. Se necessario, sarà impiegato anche l'esercito.